Loro sono Giulia e Marco. Insieme vorrebbero aprire un'attività. Lui è un vero amante del caffè. Lei è molto socievole con le persone. La loro vita sta per cambiare. Mondo Caffè nasce nel 2007 con l'apertura del primo negozio multimarche di capsule in Italia. Offriamo l'opportunità di entrare in questo mercato a nuovi imprenditori attraverso il progetto Mondo Caffè Franchise. Con oltre 40 anni di esperienza nel mondo del caffè, mettiamo a disposizione la nostra competenza acquisita sul campo attraverso formazione e supporto. Vi seguiremo passo dopo passo nella nuova esperienza imprenditoriale, con supporto costante del nostro team per apprendere e migliorare tutti gli elementi utili alla crescita dell'attività. Avrai a disposizione oltre 750 prodotti in collaborazione con i principali marchi in commercio e potrai usufruire della macchina ricicla capsule, una scelta ecologica utile a fidelizzare la vostra clientela. Offriamo inoltre l'esclusiva di zona e vi supporteremo con tutto il materiale di marketing necessario per la corretta promozione del vostro nuovo punto vendita. Mondo Caffè Franchising. Un mondo di opportunità.